Grazie ancora una volta a tutti quanti voi, è il decimo incontro che facciamo in questo periodo estremamente particolare, però attraverso questa iniziativa ci stiamo facendo un po' di compagnia. In questi dieci incontri abbiamo toccato tutti gli aspetti del gioco. Siamo partiti dalla metodologia, abbiamo parlato di relazioni, abbiamo parlato di un po' di tutto. E oggi credo che la chiusura del cerchio sia avere con noi, avere l'onore di avere con noi Filippo Galli, che non necessita di presentazione assolutamente, e che tra l'altro cogliamo l'occasione per andare a vedere a 360 gradi quello che può essere il calcio al giorno d'oggi. Non solo dall'aspetto giovanile, partiamo da quell'aspetto clima, abbracceremo l'aspetto metodologico, e poi la differenza tra gli altri incontri e quello di stasera è che, Filippo mi confermerà su questo, deve essere veramente un senza filter, nel senso che voi potete fare domande, interagiamo insieme, e sarete voi assolutamente a gestire poi tutto quello che è il meeting. Io sarò qui da moderatore a leggere le vostre domande e Filippo sarà sicuramente contentissimo di poter rispondere a tutto. Filippo, lascia la parola a te? Sì, allora, grazie a Ressandro che mi hai dato questa opportunità di essere con voi, so che il vostro è un forum di qualità, al di là della tua conduzione, e quindi anche dei tuoi contributi che ho sentito e in qualche modo sei riuscito comunque a farmi avere, anche i partecipanti che hai avuto, i cosiddetti, chiamiamoli così, docenti che hai avuto, sono stati tutti interessanti, ma anche direi tutti coloro che sono intervenuti dimostrano grandi conoscenze, per cui spero di riuscire a dire qualcosa di interessante, sicuramente come avete sempre detto nelle vostre serate, non ho la verità, io porto ovviamente con grande forza quello che è il mio pensiero, però ovviamente poi ognuno ha le proprie idee, il proprio pensiero rispetto a quelle tematiche che tu hai accennato, però sarà bello proprio per questo creare insieme la serata, insomma, sulla discussione che può anche essere concorde, ma meglio ancora se a volte è in discordanza, perché poi come sostengo la vera formazione nasce poi anche da idee diverse, da cui si genera sempre qualcosa di nuovo, su cui almeno poter, diciamo così, dare spazio a delle curiosità. Mi taccio per adesso e aspetto vostre... Allora ragazzi, siccome vi ho già anticipato che stasera sarà assolutamente più interattiva del solito, nel senso che sarete voi a dare vita poi a quello che saranno i confronti e i dibattiti, proprio perché poi è proprio il senso di queste serate, quello di essere per una volta protagonisti, tra virgolette, quello di poter dare voce ai propri pensieri, maniare le proprie curiosità, la propria voglia di conoscere e di farlo attraverso l'esperienza di Filippo, che è sicuramente completa da questo punto di vista. Però siccome capisco che è l'inizio, capisco che stiamo un po' facendo tutti l'accesso, Filippo, io direi che rompo io il ghiaccio, così partiamo con il discorso e poi chi volesse si lancia, magari senza paracadute stasera. Allora Filippo, io ovviamente noi ci siamo sentiti, però abbiamo parlato di tante altre cose. Io stasera vorrei partire con tre parole sul tuo discorso. Me le sei. E vediamo se le condividi e se ti va di approfondirle. Le tre parole che ho scelto sono gioco, percorso e coraggio. Su queste tre parole io vorrei che tu iniziassi il tuo discorso e ci facessi capire per te che cosa rappresentano. Allora, non solo nel tuo ruolo, cosa hanno rappresentato e cosa possono rappresentare. È chiaro che Filippo, però, molto della mia esperienza, ho vissuto alla guida di un settore giovanile, di un club importante, ma poi anche quello che è stato un po' il mio vissuto da calciatore, anche se poi da calciatore molto deve essere, più che aggiunto, forse tolto, rispetto alle esperienze che si fanno sul terreno di gioco ad alti livelli. Allora, io comincerei dal percorso. Forse questo è un aspetto che è più legato alla cultura spagnola. Gli spagnoli dicono che più importante dell'esito è il percorso, cioè il processo che porta all'esito. Io credo che questa sia una grande verità, sia una verità che forse in Italia fatichiamo un po' tutti a fare nostra. E il percorso deve essere un percorso condiviso. Io ho fatto nove anni come responsabile di settore giovanile e ho avuto la grande fortuna, poi a un certo punto, che il Milan cambiasse un po' politica dal punto di vista degli investimenti, quindi ci fossero, intorno al 2012, 2011-2012, ci fossero molti meno disponibilità dal punto di vista finanziario e quindi non si poteva più andare a comprare giocatori e si chiese allora, visto che la stessa cosa ovviamente a cascata riguardava il settore giovanile, di cercare di aumentare la produttività di un settore giovanile. E quindi abbiamo insieme ai miei collaboratori, e poi se a volte parlerò singolarmente, però è sottointeso sempre che io abbia lavorato con delle persone che appunto hanno collaborato con me. e quindi abbiamo cambiato, come dicevo, approccio metodologico. Quello che ci ha portato a fare un certo tipo di lavoro è stata sicuramente l'idea che questo percorso dovesse essere condiviso da tutti. In che senso? E qui poi probabilmente si aggancia anche il discorso del gioco. Allora, in un settore giovanile che possa essere professionistico, ma anche dilettantistico e anche amatoriale, io credo che ci debba essere una certa continuità e una certa coerenza di pensiero, a partire dai più piccoli, 6, 7, 8 anni, dipende, fino ai 19 anni, che sono i 19 anni della primavera, diciamo così. Perché? Perché credo che lo dobbiamo ai nostri ragazzi, abbiamo una responsabilità nei confronti dei ragazzi. E come poter far sì che questo percorso sia un percorso condiviso? Sono entrate delle voci, che sia un percorso condiviso. Io credo che debba essere condiviso da tutte le professionalità, quindi è chiaro che in un settore giovanile come quello del Milan, o Juventus, o Inter, insomma, quelli che vanno per la maggiore, ci siano tante professionalità, perché noi avevamo la fortuna di avere su ogni squadra l'allenatore, il collaboratore, il preparatore atletico, piuttosto che il video analista, lo psicologo, il pedagogista. Però tutte queste persone devono condividere un percorso metodologico. E che cos'è che però può tenere assieme questo percorso metodologico, come può tenere assieme il fatto che le persone, le professionalità lo condividano? È proprio il gioco, la conoscenza del gioco. Cosa voglio dire? Che a me non interessa che lo psicologo, il pedagogista, conoscono a memoria i Piaget, Fromm, Freud, insomma, tutte quelle che sono le teorie della psicologia, ma sappiano davvero che cosa ha bisogno un bambino, che cosa ha bisogno un ragazzo nel momento in cui affronta il gioco. Così come il preparatore atletico. Il preparatore atletico deve conoscere esattamente che tipo di gioco vogliamo sviluppare, perché lo vogliamo sviluppare, e quindi deve essere a supporto dell'area tecnica. Ecco, quello che secondo me è importante è che c'è un'area sempre che guida, ed è quella tecnico-tattica. Io metto anche tattica perché dove per tattico intendo la decisione, la capacità decisionale, la scelta del gesto tecnico da fare, perché non può essere separata dall'aspetto tecnico. e tutte le altre poi, diciamo così, aree, tutti gli altri elementi vengono di conseguenza. Questo tipo di approccio è quello che noi abbiamo definito approccio integrato, e quindi è un approccio integrato che non riguarda solo il campo, quindi non riguarda solo gli aspetti, chiamiamolo così appunto, che riguardano l'aspetto tecnico-tattico, l'aspetto atletico-motorio, l'aspetto psicologico, l'aspetto emotivo, ma riguardano anche l'aspetto dell'organizzazione. Quindi, che cos'è che dicevo, tieni insieme queste professionalità? È la conoscenza del gioco. E allora noi abbiamo lavorato tantissimo sulla formazione delle figure professionali, partendo proprio dalla conoscenza del gioco. Cioè, voglio dire, noi abbiamo cominciato nel 2011 circa, a cominciare a fare momenti di formazione, facendo vedere le partite dei nostri ragazzi, piuttosto che di determinati club che pensavamo potessero essere di riferimento come modalità di gioco, a tutte le professionalità. e cercando di creare un clima di lavoro che permettesse a queste persone di intervenire. Quindi potete immaginare, nove anni fa, che uno psicologo o un preparatore atletico si alzasse e discutesse qualcosa rispetto al gioco, a quello che vedeva. Ovviamente erano accompagnati in questo tipo di conoscenze, però potete immaginare l'allenatore, no? L'allenatore, caspita, l'allenatore già fa fatica generalmente, corriggetemi se sbaglio, a dare spazio proprio, nella maggior parte delle realtà almeno, a dare spazio al proprio collaboratore. Figuriamoci quando arriva un preparatore atletico piuttosto che uno psicologo che parlano di calcio. Ecco, io credo che invece questa debba essere una conoscenza che tutti coloro che entrano all'interno del settore giovanile debbano avere. Così come devono avere i genitori, però qui poi apriremo, se vogliamo, più avanti un'altra parentesi rispetto a questo. Quindi, conoscenza del gioco, ma che tipo di gioco? E poi magari lascio spazio a qualche domanda. Che tipo di gioco? Quello che noi ritenevamo gioco formativo. Quindi qual è il gioco che noi ritenevamo formativo? Quello che si basava sulla voglia di comandare il gioco, di avere possibilità, palla. E attenzione, parlo di gioco propositivo, quindi di gioco di possesso, appositamente non parlo di calcio di possesso, perché il gioco non va mai, non può essere, non c'è soluzione di continuità nel gioco. C'è il gioco di possesso, c'è il momento di possesso, c'è la transizione negativa, c'è il momento di non possesso, eccetera. Quindi, l'importante nel gioco non è solo avere la palla, ma è anche saper difendere. Ecco, a volte siamo stati tacciati di non pensare a quell'aspetto, cosa non vera. Quindi un gioco basato sul possesso palla, non per un esercizio di stile, ma perché ritenevamo che fosse il più formativo, perché è un gioco basato sul possesso palla, ti permette di avere una certa ripetitività di gesti tecnici, quindi il passaggio, la ricezione, una certa continuità di scelte su che cosa fare appunto, e quindi tutti questi erano momenti formativi. Uno mi direbbe, beh, caspita, molti hanno detto, beh, si potrebbe mettere i bambini l'uno davanti all'altro e fare esercitazioni di tecnica, faccio duemila passaggi oppure li metto al muro. Beh, è chiaro che c'è qualcosa di differente, di molto differente, perché da una parte c'è una quantità senza qualità e dall'altra parte ci può essere una quantità con tanta qualità e la qualità da che cosa è data? Da tutto ciò che è il gioco, cioè dalla presenza dell'avversario, dalla presenza dei compagni, dalla presenza di tutto ciò che accade tra l'interazione dei compagni, poi durante la partita ci sono i genitori, c'è l'arbitro, insomma, ci sono tutta una serie di cose che determinano questa qualità e quindi io attraverso il gioco poi riesco a dare un indirizzo formativo ai nostri ragazzi. Questo ovviamente spiegato in poche parole giusto per introdurre il tema. Spero di... Sono arrivate già delle domande, andiamo subito. Allora, la prima domanda ci chiede Yuri Dell'Atti, per lei che cos'è un talento? Ok, allora per me un talento è sicuramente per me, io tutto quello che dico l'ho preso nel tempo, l'ho letto, l'ho vissuto come esperienza, devo molto alle persone che ho incontrato durante il mio percorso del settore giovanile, in particolare a Stefano Baldini che oggi è alla Juve, a Edgardo Zanoli che è un altro metodologo, a Domenico Gualtieri che oggi è al Parma come responsabile dell'area atletico-motoria e alla dottoressa Gozzoli che lavora all'Università Cattolica di Milano, quindi scusate se le ho citate ma ci tengo a sottolinearlo. Quindi dicevo, per me il talento è sicuramente parte genetica, ok, ma poi questo talento che è genetico per potersi esprimere, per potersi manifestare ha bisogno di contesto e quindi spesso il talento per potersi esprimere, per potersi manifestare ha bisogno di fare gli incontri giusti, di avere le persone giuste che lo mettono nelle condizioni di esprimere questo suo talento. Poi talento è anche quella che viene definita la capacità di continuo apprendimento, la self-regulation credo che si dica, quindi la capacità di continuare ad apprendere perché abbiamo visto insomma l'esperienza ci dice che ci sono dei talenti dei ragazzi che a una certa età sono dei bambini che a una certa età sono straordinari però poi finiscono di apprendere quindi nel talento ci deve essere anche quella anche quella capacità poi vabbè ci può essere la definizione di talento di riuscire a fare le cose con con molta naturalezza ecco però ripeto talento è quella parte genetica che però se non incontra il contesto giusto e per contesto intendo tutte le relazioni che si creano attorno al bambino attorno al ragazzo e che sono determinate da che cosa? Dalle adulti che sono intorno a questo ragazzo ecco perché dico l'importanza che poi le persone siano tutte formate rispetto alla conoscenza del gioco sono stato chiaro legandoci proprio a questa questa risposta che hai dato salto alla seconda domanda ma ci ritorniamo dopo andiamo da Diego Franzoso che ci scrive come mai molti giovani dopo anni e anni in un settore giovanile professionistico dopo un percorso formativo pluriennale faticano ad imporsi nel calcio degli adulti troppo sbalzo tra settore giovanile e calcio degli adulti o stiamo sbagliando qualcosa nella formazione del calciatore? sicuramente qualcosa stiamo sbagliando nella formazione del calciatore questo è in dubbio questo è perché ripeto non c'è dal punto di vista metodologico un approccio al percorso che possa dare continuità ai ragazzi io non dico che si debba omologare il pensiero questo no però dobbiamo dare una continuità rispetto a ciò che andiamo ad insegnare ai nostri ragazzi io prima di fare quel di cambiare approccio metodologico nel 2011 2012 abbiamo girato un po' in Europa nei vari club quelli che vanno per la maggiore che hanno avuto maggiore produttività di giocatori quindi si parla di Ajax Anderlec Barcellona ma siamo stati anche il Manchester al Real Madrid in un modo o nell'altro non pensiamo di aver percepito tutto quello che facevano loro perché è impensabile però ciò che caratterizzava questi club con una certa produttività è sempre stata la coerenza e la continuità di principi insegnati nel settore regioni e vengo a rispondere io credo che sicuramente manchi qualcosa nel nostro sistema calcio che potrebbe essere una seconda squadra che possa far terminare diciamo così in un campionato professionistico il percorso di formazione dei nostri ragazzi è vero che è stata messa io tra l'altro ero ancora all'interno del settore giovanile quindi ero facevo parte un po' della commissione rispetto alle scelte di mettere nella primavera la retrocessione perché poi diventasse un campionato con delle particolari tensioni con un particolare agonismo eccetera il problema è sempre poi all'origine cioè nel senso quando tu dai degli strumenti formativi gli strumenti poi dipende come vengono utilizzati quindi purtroppo succede che la paura della retrocessione porta poi a giocare un calcio che non è più formativo che è un calcio io definisco tra virgolette un po' ignorante dove si pensa che il risultato non debba più passare attraverso un gioco propositivo quindi un gioco coraggioso ma debba passare attraverso un gioco speculativo e purtroppo se non riusciamo a fare questo salto facciamo anche fatica a pensare giocatori che che possano davvero esprimere fino in fondo le loro qualità perché spesso noi non mettiamo i giocatori nelle condizioni di esprimere le loro qualità li mettiamo in una zona comfort perché pensiamo che in quella zona comfort si possono ottenere più risultati e questi giocatori non esprimono fino in fondo il loro talento allora Filippo hai involontariamente risposto anche alle successive due domande che ci parlavano ci chiedevano di come magari potrebbero essere le prime squadre a non dare fiducia o che c'è una differenza del lavoro del settore già nelle prime squadre ma lo hai già esposto mister Andrea Soncin ci dice buonasera direttore parlava di formazione per gli struttori allenatori in che modo veniva organizzata e strutturata ciao Andrea dunque è chiaro che noi avevamo ripeto la fortuna di avere tecnici che avevano un contratto che permetteva appunto di fare solo calcio e quindi soprattutto nell'attività agonistica ma anche nell'attività di base facevamo dei momenti di formazione il martedì mattina quindi i tecnici vedivano per le 9 e mezza 10 fino c'erano tre ore così poi insomma il tempo quando si parla di calcio spesso passa il tempo non ci si accorge però facevamo formazione attraverso delle video analisi delle nostre partite come dicevo prima di squadre che proponevano un certo tipo di gioco che secondo noi aveva qualcosa che ci poteva dare dal punto di vista della formazione e poi il mercoledì mattina sempre chiamavamo i nostri allenatori e c'erano momenti che potevano essere tenuti da dalle diverse aree cioè quindi l'area atletico-motoria poteva parlare di aspetti relativi appunto alla parte atletico-motoria che però per noi insomma non era non era anche differente rispetto al fatto di parlare di calcio cioè di parlare di tecnica e di tattica perché come dicevo noi il nostro approccio era integrato e poi oppure dall'area psicopedagogica venivano anche degli esterni sono venuti ex allenatori è venuto Oscar Cano a parlarci dei giochi di posizione del suo pensiero di formazione insomma cercavamo di aprirci anche all'esterno e anche a pensieri che erano differenti al nostro c'erano anche una volta al mese o due il giovedì gli allenatori che venivano e proponevano allenamenti che in qualche modo potessero essere conformi alla nostra modalità di lavoro e quindi riprovavano su se stessi non solo allenatori ma dicevo psicologi facevamo del role playing sul campo e quindi provavano su se stessi gli allenatori quindi le difficoltà che un'esercitazione poteva determinare anche nel ragazzo e poi il venerdì invece prima dell'allenamento c'erano una treta e mezza due ore di incontri in cui c'era inibitata anche gli psicologi che lavoravano alla nostra struttura di accoglienza dei ragazzi perché poi ci andava a parlare nello specifico dei ragazzi però quello che forse Andrea mi chiede è davvero la conoscenza del gioco poi noi siamo partiti dall'idea che i principi di gioco sono essenzialmente due sono lo spazio e sono il tempo quindi ci parlava della capacità di occupare gli spazi da parte dei nostri giocatori in maniera razionale di come interpretare il tempo poi abbiamo introdotto anche il concetto del timing poi abbiamo introdotto un altro sottoprincipio che per noi era importante ce l'abbiamo definito come il principio ma di fatto non sottoprincipio che era la condizione numerica cioè la capacità di leggere situazioni di gioco rispetto a dove si sviluppava il gioco e quindi a dove c'è far capire ai ragazzi ma anche ai bambini che nel momento in cui c'è una zona di campo dove troppi avversari evidentemente da un'altra parte non ce ne sono e quindi cambiare il settore di campo per andare per attaccare insomma tutte queste queste cose e ciò davvero spazio e tempo condizione numerica era ciò che a noi interessava in primis e tutto girava girava lì attorno insomma ecco che non è poco allora Filippo ti chiedono Antonio Martino in che modo sceglieva i tecnici da inserire nello staff allora è chiaro che c'era una c'era una da tempo nella nel settore giovane del Mina e poi però con il tempo sono stati anche cambiati ma direi che fate conto da quando abbiamo cambiato l'approccio metodologico quello che era importante per me per noi era che un allenatore avesse nelle sue competenze il desiderio la volontà di saper collaborare perché poter saper collaborare e lavorare in gruppo è una cosa fondamentale proprio per questa modalità di lavoro no? perché se un allenatore non è in grado di aprirsi ai ai propri compagni di staff ma non solo compagni di staff a tutto il a tutti il gruppo di professionalità adulte diventava 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 un problema questo come dicevo all'inizio ha portato tante conflittualità perché ripeto provate a pensare a un allenatore che si vede fare una così una critica tra virgolette da parte di uno psicologo rispetto a quello che si vedeva a video allora il problema del conflitto il conflitto va gestito è assolutamente importante anche nel processo di formazione ma va gestito dagli adulti perché accidenti se un adulto non è in grado di gestire il conflitto con un pari con un pari pensate se non è in grado di gestire un conflitto con un con un ragazzo e pensiamo e noi credevamo e pensiamo e io penso tuttora che generalmente un talento è conflittuale è creativo e quindi è conflittuale va spesso contro la conformazione quindi l'omologazione diciamo così e quindi se tu non sei in grado di gestire un conflitto con i tuoi pari come puoi pensare di gestirlo con un talento e nel momento in cui non sei in grado di gestire un conflitto con un talento è un problema perché il talento è un patrimonio innanzitutto del bambino della sua famiglia ma è un patrimonio anche della società del club quindi questo è fondamentale allora nel processo scrive Francesco Fedeli nel processo di crescita di un giovane quanto crede sia importante sbagliare so che può sembrare pensare ma cosa ritiene possa essere più formativo tra un errore e la linearità assolutamente l'errore è fondamentale nel processo di formazione l'errore è ciò che quando tu vedi una squadra un'esercitazione o chiamiamola come vogliamo che funziona perfettamente certo vuol dire che sei arrivato ad un esito e quindi attraverso un percorso sei arrivato a fare quell'esercitazione lì che viene bene però nel momento in cui i ragazzi non sbagliano più vuol dire che ok tu allenatore ti compiaci magari fai vedere al tuo direttore sportivo che sei bravo che l'allenamento viene in maniera perfetta ma in quel momento lì i bambini o i ragazzi non apprendono più e quindi tu hai necessità di come si dice anche se è una frase che non mi piace di alzare la sticella bisogna creare delle ulteriori difficoltà e quindi l'errore è assolutamente parte del processo formativo e soprattutto l'errore poi è chiaro una delle prime parole era coraggio se io chiedo il mio centrale ho spazio davanti e devi portare dentro palla nel campo e devi condurre palla finché non ti esce fuori un attaccante quindi la prima pressione avversaria e poi puoi andare a eseguire il passaggio ci vuole coraggio c'è la possibilità che il bambino o il ragazzo sbagli a quel punto lì io però non posso andare addosso al bambino o al ragazzo io devo sostenerlo ecco che poi c'è tutto il tema dell'empatia c'è tutto il tema di sostenere il ragazzo ma questo deve avvenire nell'allenamento come in partita perché purtroppo sento tanti che dicono questo assolutamente l'errore importante e poi massacrano il bambino e il ragazzo non va bene non va bene perché il momento della partita poi è un altro allenamento ancora più complesso e più difficile perché subentrano tutte le questioni emotive è l'allenamento migliore la partita in un processo di formazione ho risposto perfetto chiarissimamente allora ti chiedono secondo lei quanto ed in che modo il modello di gioco di cui abbiamo parlato quindi la costruzione di un'identità influenza l'operato dell'area scouting scouting con eventuali differenze naturalmente tra attività di base ed agonistica beh io purtroppo in generale almeno anche quella che è stata un po' la mia esperienza ma in generale c'è questa non conflittualità però indubbiamente nel club c'è l'area scouting e poi c'è un'area tecnico-metodologica per i club che ce l'hanno che sperso va in contrasto nel senso l'area scouting dice io ho preso il giocatore un giocatore forte e poi non arriva perché? perché tu dell'area tecnico-metodologica hai sbagliato il percorso oppure l'area metodologica dici caspita io ho lavorato bene ma tu non mi hai portato un giocatore di talento e questo è chiaro che crea un problema e quindi l'idea è quella di avere davvero un idem sentire da questo punto di vista quindi nel momento in cui io ho un certo tipo di modello di gioco è chiaro che voglio favorire determinati giocatori e vengo per me il giocatore si parte sempre dal giocatore non dal modello di gioco il giocatore forte lo prendo posso avere paradossalmente dieci centrocampisti bravi piuttosto che dieci difensori estremizzo ovviamente dieci attaccanti io li prendo tutti perché poi il giocatore che è bravo è un giocatore che io voglio e cosa intendo per giocatore bravo e cosa intendo per scouting? sicuramente per fare uno scout di un giocatore bravo molto spesso dice che i più piccoli cinque sette otto nove anni hanno il pensiero egoistico dove io e la palla e quindi fanno fatica a relazionarsi con gli altri in campo ecco a parte che ci sono tutta una serie di studi che dicono che non è esattamente così perché i bambini cominciano ad avere delle relazioni con altri a partire a tre quattro anni però anche se fosse così io adulto non devo andare ad estremizzare quella cosa anzi devo cercare di far relazionare i bambini sin da subito non dico relazionare fuori sto parlando proprio di relazionare in campo che la relazione in campo è fondamentale e quindi ovviamente io quello che vado a cercare nel bambino io poi sentendo anche grandi scout Meregali che lavorava all'Inter ma lo stesso Favini insomma ti deve colpire il primo controllo il primo contatto con la palla poi il bambino quando vai a vederli dove li vedi a giocare dove li vedi che giocano bene che sono bravi nel gioco perché lo scout dove lo vede nel gioco il problema dopo il problema successivo è che troppo spesso nelle scuole calcio è nei settori giovanili che succede lo vedo bravo nel gioco e poi anziché continuare a tenerlo nel gioco per farlo crescere lo metto nell'esercitazione quindi comincio a fare tutta una serie di file mille chilometri di cinesini e comincio a fare interno sinistro esterno sinistro destro eccetera eccetera che è lontanissimo dal gioco andiamo lontani dal gioco quindi li togliamo dal gioco continuiamo a dire c'è carenza di cortili c'è carenza di oratori c'è carenza di strada però poi anziché metterli nel gioco i bambini li allontaniamo ulteriormente dal gioco facendoli fare qualcosa che è lontana dal gioco non so se ho risposto ecco comunque nella scelta scouting poi anche sui più piccoli quello che noi volevamo era ovviamente un aspetto fisico per me era irrilevante era quando un bambino è bravo generalmente al centro dell'attenzione perché vuole la palla ma anche gli altri lo cercano però quello che noi cercavamo di vedere è anche la sua capacità di relazionarsi agli altri cioè intravedere già qualcosa perché da lì nella nostra idea di calcio c'era qualcosa che potesse in qualche modo aiutarlo in una crescita e in un sviluppo esponenziale rispetto alla sua formazione perfetto allora ragazzi siccome le domande sono tantissime mi prendo io la responsabilità e la briga di riassumere e di unire un po' alcune domande quindi date tranquilli che riusciremo ad abbracciare tutti gli aspetti andiamo in due domande specifiche Filippo la prima tu prima hai utilizzato un termine forte calcio ignorante Marco Ardonetti chiede calcio ignorante contro calcio formativo secondo me il problema dei nostri settori soprattutto direttantistici è quello di pensare che con il calcio sempre da virgolette ignorante si vince prima e di più con quello formativo di meno ci puoi spiegare cosa intende per calcio ignorante? sì allora prima di arrivare al Milan ho giocato un anno in prima categoria per capirci calcio ignorante è quel calcio per cui generalmente si tende a distruggere cioè il pensiero di chi va in campo è unicamente quello di distruggere il gioco e di non pensare a costruire gioco o a proporre gioco questo intendo quindi generalmente difendersi ad oltranza che per carità per me sono valide tutte le idee di gioco purché ci sia un'identità chiara che voglio dire se io durante la settimana mi alleno in un certo modo quindi tengo la mia squadra in 30 metri davanti alla mia area di rigore perché penso che quello sia un calcio formativo allora la domenica giocherò per come mi sono allenato ok? perché ritengo quello sia il calcio formativo poi possiamo discutere se se quello sia più o meno calcio formativo però se tu hai quel pensiero io non lo condivido rispetto al tuo pensiero però tu ti devi allenare così tutta la settimana e poi giocare così la domenica quando infatti la domanda spesso che salta fuori cos'è giocare bene giocare bene è giocare secondo il pensiero per cui ci si è allenati durante la settimana e quindi se io gioco bene la domenica se ciò che provo durante la settimana mi riesce è chiaro che poi c'è un avversario però io devo essere onesto con me stesso devo essere onesto con i miei ragazzi perché se io in onestà voglio fare la partita che voglio fare ma il mio avversario non me la fa fare perché è più forte quello è un conto ma se io entro in campo e dico no giochiamo diversamente dove cominciamo allenati stiamo più dietro perché questo ci porta il risultato e io credo che poi la lunga tanto noi allenatori io purtroppo non alleno da tanto tempo poi alla fine ti cacciano comunque allora è meglio che ti cacciano con la tua idea di calcio però deve essere un'idea vera concreta coerente questo dico io ecco allora Massimo Augusto si rallaccia un po' al discorso che abbiamo fatto prima con Francesco sugli errori Filippo quindi ci dice nei processi cognitivi di apprendimento l'errore ha la stessa importanza della scelta giusta tentativo giusto più tentativo sbagliato uguale scopo da raggiungere quindi ci colleghiamo un po' al discorso che tu hai fatto in precedenza di quanto sia fondamentale lasciare che sostanzialmente sbagli assolutamente perché poi davvero il bambino il ragazzo scopre da sé uno quando sbaglia già si rende conto che ha commesso un errore poi posso spiegare o posso anzi posso farmi dire dal ragazzo dal bambino che cosa ha visto perché ha pensato quella cosa o lo faccio dentro l'allenamento e io dico che tu puoi entrare dentro anche nell'allenamento perché dire no dobbiamo star fuori dall'allenamento no bisogna anche andare dentro per capire davvero un bambino un ragazzo che cosa ha visto in allenamento certo non posso farlo con continuità oppure se si ha la possibilità di fare una videoanalisi e chiedere perché quindi è lui poi che si esprime che dice perché ha fatto quella scelta e solo in quel modo poi secondo me si può pensare che il ragazzo migliori cresca e la volta una volta è sbagliato dice che la volta succede non sbagliare più perché non funziona neanche così però si rende conto dell'errore commesso è assolutamente la scelta e l'errore sono la capacità di scelta è fondamentale ed è tattica quella allora Filippo con una domanda apparentemente semplice che fa Antonio ah anzi Alessandro Di Martino entrarei secondo me in una sfera del nostro discorso che è molto interessante che è quella della specializzazione del ruolo Alessandro ci chiede a che età consiglieresti la specializzazione del ruolo ma io credo che possiamo un attimo ragazzi magari ci freniamo un secondo con le domande perché credo che questo sia un aspetto molto interessante da parlare con Filippo in quanto in realtà poi anche arrivando nel calcio dei grandi Filippo oggi la specializzazione del ruolo è un bel è un bel questo è un bel argomento è un bel argomento beh io credo che ai bambini soprattutto fino fino all'attività agonistica ma fino vabbè diciamo fino quello che è stato il nostro percorso fino ai giovanissimi regionali quindi diciamo gli under 14 c'era una possibilità di cambiare il ruolo perché perché io credo che sia importante che i bambini sperimentino zone di campo diverse abbiano vivano le sensazioni di campo che sono date da zone diverse dopodiché in questi anni poi ho sicuramente maturato il pensiero che non si deve più parlare di ruoli ma si deve cominciare a parlare di funzioni e quindi davvero lo vediamo in particolare su alcune squadre tedesche vabbè al di là di Guardiola magari dello stesso Klopp però vediamo giocatori che nello scacchiere ideale di chi fa televisione o di chi deve mettere in campo i giocatori con una con una grafica ci sono dei terzini il classico è sempre Zinchenko che va dentro a prendere palla a centrocampo a tirare un quadrilatero con gli altri giocatori ma perché perché poi torniamo sempre lì al discorso che il campo il gioco è spazio e tempo quindi nel momento che io giocatore riesco a comprendere qual è lo spazio dove posso andare a ricevere palla io vado anche se sono terzino vado dentro il campo a ricevere palla Mentre tu parla io intanto ti metto una clip a sostegno delle tue parole parla perché voglio dire noi tendiamo a mandare al martirio il terzino che si stacca dalla linea che va dentro il campo oggi il calcio moderno è questo ma veramente il pensiero è questo metto gli occhiali perché sono un po' cieco Zin Zin sarà per Zinchenko il tuo sottofondo sarà lui vai Zinchenko qui credo che faccia il quarto è dentro a a fare a ricevere una palla tra la prima linea di pressione e la seconda e quindi qui è come se si sviluppasse un gioco di posizione o meglio come dice Oscar Can un gioco di ubicazione perché oltre alla posizione è importante come uno si mette con il corpo è come l'orientamento del corpo perché qui lui legge si è già guardato attorno vede che ha spazio controlla è già dentro ed è in frazioni di secondo questo questo oggi questo oggi è il giocatore moderno poi tutti gli altri devono andare ad adattarsi ad occupare gli spazi questo questo credo che debba essere così questo era il nostro anche col tempo con l'esperienza che si vuol fare non si riesce a fare andiamo in questa direzione ecco io sono fortemente convinto non so cosa ne pensate voi assolutamente poi ti colleghi ad un argomento in cui in queste serate abbiamo veramente approfondito molto cioè quello dell'aspetto funzionale di come si debba insomma superare un po' questa concezione del ruolo ragazzi se avete problemi con video audio di Filippo ditemelo in chat per piacere perché abbiamo un attimo magari un blocco video se mi date un feedback se anche voi non lo vedete Filippo parla un secondo perché sei fermo 1,2,3,4,5,6,7,8 ok audio ok video fermo fermo completamente magari puoi chiudere e riaprire il video però ti sentiamo perfettamente chiudo? mi chiudo? cosa faccio io? chiudi il video e poi te lo riapri solo il video ok aspetta eh ok riaprilo non ci sono? non ci sei convinto però vabbè nell'attesa che si ripristina poi magari puoi entrare e uscire però puoi andare via con l'audio per ora non ci sono problemi ehm ci cede Bernardino Filardi secondo lei sarebbe giusto differenziare anche a livello di corsi del settore tecnico in maniera netta la figura dell'allenatore di settore giovanile da quella dell'allenatore di prima squadra? sì io credo di sì vorrei approfondire un po' di più il tema metterci testa però sì credo che probabilmente l'idea di fare due percorsi completamente differenti sia importante perché comunque dobbiamo dare sempre più importanza al ruolo di allenatore di settore giovanile per il ruolo che ha e per le competenze che deve avere io qui cito spesso Mourinho anche se dal punto di vista forse eh come ti posso dire è formativo non è non è non è non è il top però ha dato anche lui tanto a suo tempo quando dice che chi sa solo di calcio non sa niente di calcio e soprattutto a livello giovanile infatti io mi arrabbio un po' anche con chi va in televisione e chi ha peso per le sue parole dice che il calcio è semplice il calcio è semplice per chi lo conosce eh se no diventa diventa se no è complesso perché devo innanzitutto un ragazzo un bambino un giocatore deve ha un controllo podalico di un attrezzo i piedi sono lontani dalla testa ma al di là di questo c'è tutta una serie di competenze che deve avere un allenatore di settore giovanile o qualsiasi persona che lavora nel settore giovanile eh perché ci sono aspetti legati all'apprendimento rispetti legati alla 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 pedagogia insomma tutta una serie di cose per cui eh dobbiamo stare attenti perché poi si rischia di andare sul campo di fare le cose con amore con affetto eh ma si rischia di davvero di di fare degli errori dei danni importanti quindi sì io credo che ovviamente non aspetta a me ma io sicuramente queste questa idea la porterò l'ho già portata per quello che può valere rispetto a un'idea di differenziare i corsi poi non so se si possa realizzare ma ma in dubbio insomma ecco ok Filippo proviamo a ripristinare un secondo l'audio vediamo vediamo se va allora spengo e riaccendo sì proviamo un secondo com'è allora se no facciamo una cosa tanto ci metti due secondi esci e rientra come abbiamo fatto all'inizio ok esci dalla conferenza e rientra va bene ok allora ragazzi nel frattempo che Filippo ripristi in audio e video in modo tale che lo vediamo perché è più completa l'esperienza vi ricordo che sicuramente avrò difficoltà a poter leggere tutte le le domande quindi sto cercando di fare una miscela anche perché se voi fate molta attenzione Filippo in alcune risposte che dà poi risponde anche ad altre domande allora Filippo ti vediamo attiva l'audio ti do conferma anche sull'audio un attimo solo vediamo audio e video ci sei ci sei in griglia cambia qualcosa no 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 ci sei ci sei ti vediamo ti vediamo ragazzi se avete problemi poi ce lo dite ce lo dite allora allora vediamo un secondo ci dice questo è interessante è sbagliato dire che il calcio tedesco sta esprimendo il calcio del futuro ma l'ho detto prima io vedendo alcune immagini tra l'altro il buon Emanuele Tedoldi Tedoldi che so che partecipa spesso alle vostre serate ha tanto materiale in questo senso riesci sempre a scovare filmati di un certo tipo ma anche tu Alessandro quindi mi sembra che il sì il calcio tedesco stia davvero proponendo qualcosa di diverso all'avanguardia rispetto sia a quello che dicevamo prima alle funzioni non più i ruoli e quindi il calcio va in quella direzione lì vediamo dei difensori centrali che vanno a prendere palla palla oltre la linea della prima pressione vengono si spostano lateralmente insomma tutta una serie di cose che probabilmente potrebbero essere poi prese da altri ecco io penso penso proprio penso proprio di sì diciamo che loro hanno fatto qualche passettino in più rispetto verso il futuro rispetto ad altre ad altre realtà Alberto Angelastri Barcellona ci dice come pianificate i principi e i sottoprincipi del vostro modello su quale aspetto a quale aspetto date più importanza come ho detto prima noi la programmazione innanzitutto per ragioni didattiche dividevamo il gioco in quattro fasi in buona sostanza quindi una fase di costruzione una di gestione grosso modo ovviamente non possiamo parlare di zone di campo perché dipende un po' come si dispongono gli avversari però zona di costruzione a cavallo della metà campo una zona di gestione poi una di di finalizzazione verso la porta avversaria e quindi c'eravamo e poi c'era nel flusso nel flusso di gioco c'erano altre due due fasi importanti che erano la reazione alla palla persa e quindi ovviamente la possibilità di salire di squadra quindi di giocare attraverso attraverso la capacità di di trovare posizione negli spazi giusti ci permetteva di riuscire a essere vicino alla palla per andare a riaggredirla nel momento che fosse perduta nel momento in cui non ci fosse stata la possibilità di recuperare palla nei famosi 5, 6, 7 secondi dovevamo andare a lavorare sotto la linea della palla e quindi in una difesa diciamo così organizzata o in fase difensiva conclamata i principi erano quelli davvero di spazio di tempo noi non abbiamo usato tanti principi spazio tempo condizione numerica generalmente lavoravamo anche quando eravamo a lavorare su un settore che so settore sinistro ad esempio l'idea era quella di attrarre un po' la squadra avversaria cioè una fase difensiva avversaria da quella parte per andare poi a colpire dalla parte opposta magari non tanto poi cambiando cambiando gioco come andando a trovare l'esterno che rimane largo eccetera ma andare a lavorare nell'halfway cioè negli spazi intermedi e quindi qui ci voleva la capacità del giocatore generalmente la mezza opposta di non andare a chiudere il gioco cioè di non andare a schiacciarsi verso la zona palla ma rimanere nell'halfway in una zona dove poi era difficile la marcatura che venisse fuori il centrale difensivo perché comunque aveva paura di lasciare la sua zona eccetera eccetera l'idea era un po' questa insomma nulla di particolare noi davvero volevamo che i giocatori comprendessero questa idea di liberare gli spazi dove per liberare gli spazi tra l'altro sorrido perché il primo mese mese e mezzo a un certo punto quando noi chiediamo ai nostri giocatori ma cosa vuol dire liberare lo spazio e io quando prendo corro via da uno spazio l'ho liberato no non è così perché se il giocatore avversario non viene con me io dallo spazio non l'ho liberato sarò andato a occupare un altro spazio ma con lo spazio lì l'ho liberato io ma non si è liberato quindi io lì non ci può andare nessun altro dei miei compagni a ricevere palla adesso questo è un ripensando quello che accadeva e come e come sia importante la comunicazione e il capirsi no a volte perché davvero a volte si dà tutto per scontato anche nel modo in cui noi alleniamo e come ci approcciamo i ragazzi e cosa che invece non è non è esattamente così allora Francesco ci fa una domanda interessante Filippo che ci permette di andare ad abbracciare secondo me anche un altro discorso più globale che cosa si intende per conoscenza del calcio come ci dite con la conoscenza del calcio è tanto cioè non è così semplice come dice prima il calcio è complesso e soprattutto ripeto quando ha a che fare con un settore giovanile conoscenza del calcio vuol dire innanzitutto che occorre conoscere tutto il calcio però l'importante ripeto è stabilire innanzitutto che cosa si ritiene io responsabile del settore giovanile che cos'è il calcio formativo o qual è il gioco formativo come dicevo prima usiamo gioco e non calcio qual è il gioco formativo un gioco formativo è quello che mi permette di avere di avere la palla di cercare di essere coraggioso di gestire di gestire il gioco quindi di fare tante scelte e di e di cercare di imporre questo gioco ma non peraltro ripeto ma perché poi in questa modalità io riesco a fare un tot numero di passaggi un tot numero di ricezioni ed è tutta tutta qualità ed è tutto sono tutte esperienze che io faccio e sono tutte scelte che io faccio quindi la capacità di scelta la possibilità di fare delle scelte ed eventualmente di sbagliare è ciò che fa crescere un giocatore quindi conoscere il calcio innanzitutto è conoscere questo e conoscere come muore far capire ai bambini da subito dove si devono muovere come si devono muovere che cosa vuol dire smarcarsi vuol dire semplicemente allontanarsi da un avversario e avere lo spazio per ricevere la palla perché parliamo di triangoli o di rombi il rombo credo che sia la struttura di gioco di base per chi vuole fare quel tipo di calcio perché ti permette di avere due opzioni in ampiezza di avere un'opzione in profondità poi noi giocavamo anche con l'idea di avere un quinto giocatore oltre al possessore di palla che era diciamo così nel rombo in basso quindi diciamo così colui che possiedeva palla ma un quinto giocatore che tendenzialmente andava ad allungare a lavorare sulla sulla pressione della linea che era riferita a quel rombo e quindi cercare di allungare di sportare via la linea la linea di pressione per dare ulteriore tempo e spazio ai giocatori che costituivano il rombo di gioco ma questo subito dai piccoli dai bambini insomma credo che poi il bambino si diverte se ha la palla nei piedi poi il ciclo semplice dell'apprendimento è lì cioè io il bambino ha la motivazione quindi il bambino quando è piccolo si motiva a giocare perché ha la palla nei piedi perché si diverte perché gli fai fare magari gli allenamenti ogni volta differenti e non sempre uguali gli spieghi perché glielo fai fare quindi consapevolezza gli dici perché lo fa glielo spieghi glielo fai vedere e poi ovviamente ci vuole dell'efficacia cioè gli fai vedere che facendo in quel modo il bambino migliora fa più passaggi fa più scelte giuste e da lì nel momento che il bambino realizza realizza che le cose funzionano diciamo che il circolo virtuoso dell'apprendimento lui ha nuovi stimoli è nuovamente stimolato a lavorare a fare le cose è chiaro che poi io devo essere bravo come allenatore perché se io faccio fare un'esercitazione per cui il ragazzo non riesce per cui il bambino non riesce dovrò destrutturare non impoverire ma destrutturare la situazione di gioco perché nel momento in cui il bambino continua a vedere che quello che gli viene chiesto non riesce a farlo io allenatore devo essere in grado di essere il facilitatore di contesto questo poi mi sembra che non dica niente di nuovo allora Filippo hai utilizzato un termine importante che è quello destrutturare a me apre un argomento che tu hai solo accennato all'inizio cioè la destrutturazione del gioco noi siamo abituati a mio avviso questo è un mio pensiero ma mi sembra che sia anche il tuo dalle parole che hai detto prima che abbiamo un po' la pecca di voler estremamente semplificare il gioco nel senso che a volte trasformando attraverso l'analitico quindi destrutturando al massimo allontaniamo il calciatore da quella che è la situazione dall'interpretazione dall'adattamento alla circostanza che cambia in relazione a questa domanda c'è una domanda che ci fa quanto spazio secondo te bisogna dare lavoro analitico nell'attività di base e nel settore agonistico guardate io il mio pensiero è che il settore che l'aspetto analitico non debba avere granché spazio cioè non debba avere quasi spazio nel senso posso far lavorare in analitico il ragazzo quando arriva al campo arriva prima non è il compagno con cui non c'è la possibilità di creare una struttura di lavoro sufficiente allora gli do la palla e lui che so palleggia oppure si passa la palla al compagno l'analitico ormai secondo me serve dal mio punto di vista serve dal punto di vista proprio accettivo proprio per avere confidenza col pallone ma una volta che hai fatto 3, 4, 5 volte hai ripetuto un gesto basta perché poi ormai lo dicono credo tutti gli studi non c'è non c'è transfer c'è un conto se io metto anche un bambino che fa i cinesini a fare gli slalom e un conto se lo metto a fare un dribbling ma questo andando indietro ovviamente adesso che sono arrivato a 57 anni mi ricordo quando ero con Sacchi che mi diceva guarda Filippo tu sei un po' scarso tecnicamente vieni mezz'ora prima e fai tecnica poi anche fisicamente sei un po' così vieni un'altra mezz'ora prima e fai lavoro in palestra però al di là delle battute ma non sono battute mi diceva io facevo tanti cinesini tanti slalom ed ero diventato in alcuni slalom poi facevamo le gare riuscivo ad arrivare alla pari o a battere addirittura Simone Marco Simone o Roberto Donadoni i due re del dribbling ma se tu mi mettevi a San Siro a fare un dribbling io me la facevo addosso penso di aver mai fatto un dribbling in vita mia cioè capite che non c'è non c'è assolutamente non c'è assolutamente transfer e anche qui quando parliamo di distrutturare io credo che ma minimo minimo io devo avere tre giocatori anche quando faccio i lavori di uno contro uno il fatto di dire che il giocatore cioè il fatto di fare l'uno contro uno lancio la palla al giocatore che poi diventa l'attaccante quindi poi vado ad accorciare freno per andare a giocare l'uno contro uno e magari un uno contro uno che mi dura cinque dieci secondi spesso almeno io vedo fare così poi correggetemi se mi sbaglio però quello è un uno contro uno inesistente contestualizzato allora io preferisco che il giocatore che deve fare uno contro uno abbia il proprio avversario e ci sia un altro suo compagno con la palla e il compagno con la palla gli dà la palla al momento giusto in base anche a come si muove il difendente in qualsiasi zona di campo succede così e deve avere poi una finalità cioè non deve essere facciamo la guerra uno contro uno che dura cinque dieci secondi perché poi io ci sono dei video no non lo dico non lo dico io c'è Maradona che dice che quando fece quel famoso gol nell'86 forse i più giovani non se lo ricordano la finale no era un quarto di finale con l'Inghilterra dove fece la mano di Dio quel gol lì poi il secondo gol lo fece partendo da metà campo scartando tutti ora se voi sentite Maradona dopo qualche anno quando parla di quel gol io dico io per per estremizzare no per per come posso dire fare un po' da e per esagerare dico che l'uno contro uno addirittura non esiste no che estremizzo ovviamente però lo stesso Maradona dice io sono stato bravo ovviamente lo dice Maradona che è il giocatore per antonomasia dell'uno contro uno ci sono stato bravo però se non ci fosse stato Valdano chi attraeva i difensori inglesi da cui Fenwick io probabilmente quel gol lì non so se l'avrei mai fatto cioè capite cioè questo è perché succede anche nei mondiali di Russia c'è stato un gol che fa De Bruyne da fuori area e non è un uno contro uno però anche quello è un gol dove fa capire come sia importante la relazione che c'è in campo tra i compagni c'è un gol che lui riesce a fare perché gli fa una sovrapposizione credo Lukaku che permette a Marcello il terzino sinistro del Brasile di spostarsi tanto così la palla passa proprio da quella gamba che si sposta di tre millimetri e si va a infilare nell'angolino cioè questo è un esempio di come quel movimento di Lukaku come sovrapposizione abbia spostato di quei tre millimetri e uno magari non ci fa neanche caso però capisci che poi alla fine è sempre una relazione un relazionarsi tra compagni e tra avversari e quindi non siamo mai in una condizione reale di uno contro uno poi io non sono contro l'uno contro uno tutt'altro se io ho giocatori che sanno saltare l'uomo ben venga però quanto è qualità individuale tecnica quanto è capacità di scelta quanto è distrazione da parte di un mio compagno rispetto all'avversario e dobbiamo metterci dentro tutte queste cose qui per cui quando sento in televisione che non siamo non ci sono più giocatori in grado di saltare l'uomo perché non si insegna più nei settori giovanili o nelle scuole calcio io dico che non è vero che a parte che secondo me non si insegna l'uno contro uno e uno ce l'ha dentro devi solo creare le situazioni i contesti per fare l'uno contro uno ma dicevo nelle nostre scuole calcio nei settori giovanili si fanno le vagonate di uno contro uno però come ti dicevo prima le facciamo decontestualizzate potremmo fare i campionati del mondo di uno contro uno ma poi non ci servono niente nella partita nel contesto della gara del gioco siamo fermi Filippo alla didattica non ci sono più le transizioni l'uno contro uno è fermo a se stesso sulla postura e comportamento corsi e scappamento e poi si ferma lì come hai detto tu non c'è continuità Emanuele ci suggerisce Tedoldi questo l'abbiamo citato pochi minuti fa una bella definizione di Jordi Gratakos giocare bene significa creare tempo e spazio per il possessore di palla voleva dire un po' su questa definizione ma anche cioè assolutamente è la finalità poi del del gioco di posizione perché quando nel gioco di posizione tu riesci a dare la palla la finalità del gioco di posizione è quello di riuscire a dare la palla ad un tuo compagno per regalargli tempo e spazio giusto allora ci dice Marco Di Rocco mister crede nelle asimmetrie perché spesso alla fine del processo i principi creano ordine con spaziature e controllo al disordine del gioco non crede che ci sia bisogno di far presente l'irrazionalità del gioco sì ma ci colleghiamo ci colleghiamo come dicevamo prima se nel momento che io vado a occupare degli spazi perché quegli spazi sono vuoti perché io posso ricevere palla lì a me a un certo punto della simmetria non mi interessa più non mi interessa più diventa caotico diventa diventa un caos se vogliamo anche organizzato pensato ma pensato perché poi i giocatori pensano a spazio e tempo a come andare a occupare lo spazio a dover ricevere palla nello spazio che è libero senza la pressione dell'avversario allora prima parla scusa parlavo di timing proprio perché nel momento in cui tu arrivi negli ultimi 20 metri fai un gioco di possesso in particolare arrivi negli ultimi 20 metri lì diventa difficile avere tempo no? e quindi il timing è proprio la sincronizzazione tra il momento in cui tu puoi tu decidi di dare il passaggio e il movimento del tuo compagno o la ricezione del tuo compagno che potrebbe anche rimanere fermo voglio dire però il timing è lì tanto più importante quanto più sei nella parte finale del campo cioè nella zona di finalizzazione è vero che diventa importante oggi anche nella fase di costruzione perché quando ti vengono a prendere alti sei quasi in una situazione identica a quella che ti ritrovi poi nella nella zona di finalizzazione allora Emanuele ci dà un altro assist a quale io mi allaccio e argomento un po' anche la domanda lui ci parla come mai non lavoriamo mai in situazioni di inferiorità numerica cioè uno contro due due contro tre e poi mi allaccio anche a un discorso abbiamo fatto anche io al telefono noi sappiamo che nella fase di possesso sostanzialmente ci sono tanti momenti tante micro situazioni possiamo avere per tre secondi un quattro contro due ma dopo un secondo possiamo avere un due contro tre e mi allaccio proprio alla sua domanda come mai secondo te non andiamo mai a fossilizzarci su questi aspetti qua sull'importanza di saper gestire le situazioni di inferiorità numerica ma credo che sia una questione di abitudine di attitudine a questo tipo di lavoro che forse di abitudine a questo tipo di lavoro che manca poi l'uno contro due noi lavoravamo nel senso il difensore che ne affrontava due poi alla fine la capacità del difensore è quella di riuscire a trasformare in uno contro uno nel momento giusto però è indubbio che sei in una condizione di svantaggio quindi devi essere davvero bravo però da questo punto di vista noi ci lavorava quello che bisogna stare attenti è il contrario a volte anzi scusa il contrario quando tu poi porti questa inferiorità numerica a livello di reparto succede che tu a volte poi nel giocatore se non gli dai una corretta abitudine comunque di andare ad attaccare rischi anche poi al limite dell'area di rimanere a non andare a pressione perché sei in una situazione di inferiorità non so se mi sono spiegato cioè se sei in inferiorità allora io non esco non esco non esco poi trovi il giocatore che da 20 metri ti fa gol noi a un certo punto abbiamo notato questo quindi abbiamo abbiamo riportato abbiamo alternato le due cose capito come spesso accade devi saper riequilibrare perché poi le esercitazioni vanno tutte bene tra virgolette però poi bisogna sapere osservare saper capire che cosa che cosa fare anche rispetto al contesto che tu stai vivendo allora Filippo abbiamo parlato tanto dell'evoluzione del calciatore di come stiamo abbandonando la concezione di ruolo per dare spazio ad altri ad altri tipi di concezione ma io direi che attraverso l'evoluzione del calciatore poi si ha anche un'evoluzione soprattutto metodologica nella concezione degli spazi noi siamo abituati a ragionare anche didatticamente su geometrie euclidee senza magari a volte renderci conto che le geometrie che adesso prevalgono nel gioco del calcio sono quelle relazionali questa è una domanda che ti faccio io personalmente e ti chiedo per te nella tua esperienza di calciatore poi di tecnico e poi di responsabile quanta importanza hanno le geometrie relazionali cioè le relazioni non solo tecnico-tattiche ma anche socio-affettive all'interno di dinamiche e prettamente di sviluppi di gioco beh sì sono importanti sono importanti ma proprio relative al campo poi è chiaro che magari un compagno con cui tu vai particolarmente d'accordo fuori dal campo poi questa relazione affettiva te la puoi portare anche in campo però non è detto può essere solo una relazione affettiva di campo cioè di sensibilità al gioco e quindi di trovarsi infatti ci sono poi quelli che definiscono anche una superiorità numerica di tipo affettivo di tipo affettivo relazionale oltre a quella posizionale e sono credo altrettanto importanti quindi anche qui l'allenatore deve saper cogliere queste sfumature ha risposto? sì chiarissimamente chiaro negli ultimi studi dice Francesco Spanò in merito alle neuroscienze sembra che ci siano neuroni specializzati a mappare l'ambiente in modo da codificare l'ambiente spaziale con tutti i suoi elementi la mia domanda è quanto incide a livello metodologico sulla direzionalità del gioco sull'utilizzo degli spazi reali parlerebbe ancora di giochi di posizione allora io sto leggendo anch'io mi sto informando sto cercando di formarmi anche rispetto alle alle neuroscienze è un bel è un bel campo che 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 apre un che apre un mondo sicuramente il nostro cervello ma da bambini siamo in grado di percepire i bambini hanno diceva l'altro giorno era un termine che non conoscevo abbiamo un'abilità una capacità sincretica cioè quella di già di comprendere nell'insieme cioè di tutte le informazioni che ci arrivano del bambino di tutte le informazioni che gli arrivano di sapere analizzare ciò che gli arriva e quindi ecco perché poi non c'è bisogno di andare a scomporre ulteriormente questa è una domanda a cui sinceramente ad oggi non so rispondere però è indubbio che le neuroscienze aprono tanti punti di domanda come i come i neuroni specchio insomma tutta una serie di di nuove ricerche di nuovi studi io credo che poi sia importante come posso dire non focalizzarsi o non dare completamente campo ad una disciplina io credo che bisogna tenere presente tutta una serie di discipline neuroscienze psicologia ecologica eccetera perché secondo me ad esempio dal punto di vista dell'apprendimento ciò che è importantissimo è il tema della relazione con i miei collaboratori davvero per noi la relazione la capacità di relazionarsi di trovare la chiave per entrare in relazione con i giocatori è fondamentale insomma ok prima di passare alla domanda sull'allenamento integrato che già ci hanno fatto un paio di volte ti chiedono quali competenze sono richieste oggi ad allenatori e preparatori per arricchire la loro formazione che cosa devono arricchirsi per fare un passo ovviamente dipende anche dalle facce di età ma credo che secondo me un allenatore deve avere ovviamente delle competenze tecnico-tattiche deve avere delle competenze però nel settore giovanile deve avere delle competenze pedagogiche come dicevo prima deve avere un ampio raggio di conoscenze anche dal punto di vista dell'apprendimento ma soprattutto un allenatore deve se io devo prendere un allenatore io prendo un allenatore che ha conoscenze certo ma che ha voglia di crescere che è curioso che ha voglia di imparare che ripeto sa stare in staff sa lavorare non solo nel suo staff ma intra staff tra gli staff cioè per me un settore giovanile è davvero bisogna pensarlo in maniera sistemica perché tutte le persone che lavorano in un settore giovanile sono si in qualche modo si influenzano nel loro lavoro quindi vale anche in un'organizzazione di lavoro con tutte queste persone ed è a mio avviso fondamentale io dico che quello che ho detto all'inizio ho accennato al fatto dei genitori per me anche i genitori sono importanti cioè ognuno nel rispetto del proprio ruolo per carità quindi allenatore allenatore in seconda preparatore atletico pedagogista chi più ne ha più ne metta ma il genitore è importante che noi che qualsiasi sia il livello cioè professionistico direttantistico amatoriale il genitore venga messo a conoscenza di ciò che è la metodologia quello che è l'approccio metodologico che non che un allenatore ha ma che quel settore giovanile o quella scuola a calcio ha perché poi il genitore che pensa di avere maradona rimarrà il genitore che pensa di avere maradona ma se noi diamo ai genitori degli strumenti per valutare quello che i loro figli fanno forse potremmo trovare degli alleati e nel momento che troviamo alleati genitori questo diventa un punto di forza per noi diventa davvero un punto di forza è chiaro che poi c'è la paura da parte del tecnico o della società di essere valutati da chi ha delle competenze vere non da quelle che sente in televisione o da qualcuno che racconta calcio in un certo modo dopodiché però anche nel genitore una volta che sa aumenta la responsabilità perché nel momento che tu hai conoscenza e hai competenza è la tua responsabilità anche rispetto a quello che è il percorso che sta facendo tuo figlio è alta e quindi non è che puoi intervenire ogni volta così perché perché cambia il vento non so se ho l'idea chiarissimo andiamo dunque alla domanda sull'allenamento integrato anche perché è un aspetto che so che a te sta a cuore chiarire te la prendo subito la domanda cosa pensi del lavoro integrato sul campo proprio come metodo integrato per noi per noi è fondamentale per me per noi è fondamentale il lavoro il lavoro integrato è chiaro come ho detto prima che l'atleta il giocatore è costituito da più aspetti no? quindi c'è un aspetto tecnico-tattico abbiamo detto un aspetto atletico-motorio c'è un aspetto psico-relazionale ed emotivo la nostra idea è questa ci sono tanti studi rispetto al giocatore all'atleta che fa calcio che dicono che nel momento in cui l'atleta è costituito da questi elementi da queste parti nel momento in cui una parte non è al meglio io ad esempio il giocatore non è veloce lo faccio allenare sulla velocità quindi gli faccio fare che so 10 corse di 20 dico a caso di 30 metri per una settimana e poi lo rimetto nel gruppo o comunque gli faccio fare un lavoro un lavoro diciamo così differenziato perché ho bisogno che lui acquisisca una certa una certa velocità allora al di là di quelle che sono le poi le come posso dire gli adattamenti rispetto alla velocità in una settimana in due settimane in quelle che sono però noi abbiamo un'idea diversa di quella che è l'atleta nel senso che c'è una parte di studi e quindi di letteratura che dice che è vero che queste parti compongono l'atleta però queste parti non sono assemblate tra di loro per capirmi non è che per farmi capire scusate non è che è come il Lego cioè dove i pezzi li metti assieme però poi il blu rimane blu il bianco rimane bianco il rosso rimane rosso e il giallo rimane giallo quindi queste quattro parti si integrano o meglio si mischiano in un modo tale che io non conosco con che percentuali entra una parte quella tecnica con che percentuali entra quella atletica o fisica con che percentuali entra quella emotiva quella cognitiva però a me quello che poi interessa è l'efficacia tecnica sul campo quando io dico caspita guarda quel giocatore lì come gioca bene qualsiasi sia il ruolo qualsiasi sia la funzione quello sta facendo bene allora io non so su che cosa si è migliorato o che cos'è qual è l'elemento che più determina quella sua prestazione a me interessa la prestazione così come se io vedo che ha dei problemi devo andare a capire come lavorarci ma ci lavora in maniera integrata non togliendolo dal campo non facendolo lavorare nello specifico se uno ha problemi di passatemi il tema di coraggio perché non porta dentro la palla non è che lo metto sul lettino allora cerco di di capire perché magari di metterlo con continuità con accompagnamento in situazioni di difficoltà rispetto al portare dentro palla e aspettare che arrivi l'avversario ecco perché è importante che tutte le figure dal preparatore atletico allo psicologo pedagogista conoscano il gioco lo dico questo perché noi spesso anche rispetto alle abilità motorie e alle capacità condizionali dovremmo lavorare più su una intelligenza motoria non sull'idea che uno deve sviluppare la massima velocità la massima resistenza la massima forza un giocatore deve essere un atleta questo non possiamo discuterlo per carità però noi abbiamo fatto 11 anni di studi abbiamo 11 anni di studi di continui test almeno tre volte all'anno sui giocatori che poi ci hanno detto che quei giocatori che hanno fatto un certo tipo di percorso sono andati a giocare in serie A qualcuno anche in nazionale dal punto di vista delle 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 capacità condizionali non erano tra i migliori capisci? capite che cosa sto dicendo quindi e tra l'altro abbiamo fatto delle comparazioni rispetto ai metri percorsi rispetto a tutti un certo numero di parametri fisici di espressione di potenze eccetera tra le squadre primavera nostre le squadre di serie A eccetera e la differenza quello che ne veniva fuori è che alla fine non è non sono gli aspetti fisico-atletici o di capacità condizionali che fanno la differenza quindi che cosa sarà sarà probabilmente l'interpretazione del gioco la capacità di capirlo questo gioco ci sono ci sono giocatori che corrono davvero poco ma non è che se hanno corso poco io devo fargli fare lavoro compensativo perché se non so dicono Buschè della situazione che sa guardarsi attorno ma se gioca orizzontale poi il passaggio che lui determina il passaggio successivo che lui determina è quello più verticale di tutti che mi permette di saltare tra le linee di pressione cosa faccio a Buschè gli dico di correre no questo spero di essere stato chiaro chiarissimo chiarissimo torniamo all'aspetto dell'evoluzione dei tecnici in Italia la domanda è in Italia oggi cosa deve fare un giovane tecnico per poter emergere ad altri livelli come viene in Spagna e in Germania il mondo il calcio è un mondo conservatore diciamo così non è semplice non è semplice trovare spazio riuscire a entrare in un club io non voglio parlare di me però io di fatto da questo punto di vista ero un po' particolare io ho un ragazzo che lavora tuttora al Milan tra l'altro siccome io avevo bisogno di lavorare sui giochi di posizione allora quindi avevo necessità di qualcuno che comprendesse a fondo la materia che conoscesse la materia io ho conosciuto un ragazzo su Facebook ovviamente non è che l'ho poi l'ho messo sotto contratto dopo averlo conosciuto su Facebook l'ho portato poi ho fatto un colloquio un colloquio con tutti anzi un colloquio ho fatto una presentazione del lavoro a tutti a tutti gli staff ma quando dico tutti gli staff a 50 persone voglio di tutte le di tutte le squadre con i psicologi e bla 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 poi sono andati sul campo eccetera e poi dopo qualche mese ho avuto ho avuto l'opportunità di metterlo sotto contratto e quindi di averlo con noi insomma io credo che come al giocatore debbano essere date delle opportunità a un tecnico spesso non è semplice capisco perché poi le realtà che lavorano con serietà e rispetto a meritocrazia o comunque a valutare davvero chi ho di fronte e quali potrebbero essere le potenzialità non sono tante ecco chiarissimo ti chiedono attualmente in Italia ci sono ci sono settori giovanili che lavorano tenendo e aggiungo io realmente contro non so mi fate una domanda sicuramente sono dei settori giovanili che hanno dell'identità hanno dell'identità ben precise che formano anche giocatori che fanno uscire dei giocatori che hanno mercato perché poi è chiaro che la finalità di un settore giovanile poi ovviamente è quella di formare il giocatore o per la prima squadra o per il mercato di riferimento quindi la produttività quindi non possiamo nasconderci che ci sono dei settori giovanili che da questo punto di vista siano produttivi che abbiano una diciamo così una linea una linea comune una linea metodologica comune faccio fatica ad individuarli però sicuramente all'interno di qualche settore giovanile ci sono dei gruppi di lavoro che vanno tutti nella stessa direzione manca un po' questa idea di approccio metodologico che coinvolga tutto un settore secondo me e credo che invece siccome di talenti in Italia ne nascano sarebbe bello poter provare davvero questa modalità di lavoro per vedere che cosa ne potrebbe uscire giustissimo ti chiedo no questo è più un consiglio come comportarsi nel caso la tua idea di calcio sia diversa da quella del tuo responsabile a cui interessa solo ed esclusivamente il risultato andare via mascherare considerando che molti dei responsabili hanno una visione tornando al termine precedente utilizzato ignorante no togliamoci questa definizione scusatevi ho forviato guarda è chiaro che poi ognuno deve fare i conti con se stesso con la propria magari con la famiglia con tutta una serie di cose perché poi qualcuno ha uno stipendio rispetto all'attività che fa di allenamento e quindi che possono essere uno dieci cento questo non ha importanza però può essere sicuramente importante per lui e quindi insomma entrare negli aspetti della coerenza non è corretto ognuno credo che debba avere e sicuramente ha amor proprio e può capire fino a dove può rimanere quello che dico sempre io è che le battaglie le si possono vincere o si possono avere possibilità di vincere da dentro quindi insomma il messaggio il messaggio è questo poi quando uno a un certo punto non ce la fa più e comprende che non è più in grado di di sostenere certe certe posizioni può decidere diversamente ecco però io dico sempre che quando si è all'interno di un contesto se si vuole cambiare è sicuramente più facile che non che non da fuori certo bisogna avere grande forza di volontà ti chiedono ti chiedono se lei vede è a guardare una partita di settore giovanile quali sono i parametri per ritenere se un allenatore è capace o meno a me a me piace vedere se la squadra gioca dentro il campo mi piace che una squadra vada dentro a lavorare a lavorare dentro il campo dove c'è traffico che poi per poi magari andare fuori però io dico che quando lì comandi lì dentro dai giocatori che sono abituati a fare quel tipo di gioco vuol dire che c'hai lavorato vuol dire questo è un po' la mia idea e poi l'allenatore che magari questa è un po' la lotta che abbiamo sempre avuto con i nostri allenatori che non sbraitino che non si che non sbraccino eccetera eccetera so che non è facile perché sono stato anche l'allenatore il trasporto è tanto però io poi sono penso che la motivazione sia solo intrinseca non estrinseca quindi il fatto di urlare a un giocatore non gli dai una spinta anzi spesso è un disturbo quindi però questa idea di giocare dentro dentro il campo è una cosa che io trovo importante perché che mi dà un po' l'idea anche dell'allenatore ecco che poi si ricorda il discorso che hai fatto all'inizio del coraggio il coraggio di costruire di generare non di distruggere è tutto un filologio è la famosa quella che io definisco la bellezza corare del calcio insomma eh sì allora in una intervista lei ha parlato di cambiamento dei vivai italiani in che modo si possono cambiare questi vivai ma soprattutto fatica ad avere coraggio penso si intende il movimento calcistico dei vivai fatica ad avere coraggio sì è chiaro che poi i vivai soprattutto se noi parliamo di vivai professionistici dobbiamo anche poi saper differenziare perché è un conto di vivai di legal però seppur virtuoso però ha veramente le risorse sono davvero poche ma così come del resto in serie B io credo che quello che possa servire davvero io poi mi manderete anche a quel paese però io ricordo che quel lavoro che noi abbiamo fatto al settore del Milan giusto o sbagliato non spetta a me dirlo però prima l'avevamo sperimentato ma non per necessità direi non tanto per scelta nelle nostre scuole calcio e in alcune scuole calcio ha funzionato abbiamo avuto dei risultati nonostante i punti i giocatori poi non fossero selezionati per la disponibilità delle persone a lavorare in un certo modo quindi al di là delle strutture al di là della qualità dei giocatori però i risultati migliori in termini di miglioramento poi davvero dei giocatori sono avuti in quelle circostanze quindi capisco le difficoltà che si hanno perché come qualcuno ha detto prima è il mio dirigente o c'è il mio direttore scoltivo vuole solo direttore tecnico pensa solo al risultato perché poi si deve far vedere il vero della presidenza lo so benissimo quali sono le difficoltà per carità però poi io credo che se uno porta avanti il lavoro io credo che debba essere alla fine molto chiaro anche con questo tipo di persone è chiaro che ripeto poi non è non è semplice però c'era qualcosa nella domanda che poi adesso mi è sfuggito mi ha detto in che modo si possono cambiare questi vivai io credo io credo che il cambiamento il cambiamento debba venire dal basso cioè i cambiamenti devono venire dal basso è chiaro che se ci fosse un vertice in grado di recepire sarebbe meglio per tutti però io devo dire una cosa oggi se parlo di calcio giocato di gioco io vedo una nazionale che da quel punto di vista lì è un esempio è un esempio perché al di là che uno può dire che non abbiamo giocato contro grandi nazionali straniere eccetera però poi proporre un certo tipo di gioco non è mai facile e ci vuole un'idea forte ecco io credo che Mancini stia portando un'idea forte e quello deve essere un po' anche l'esempio ma ripeto poi il cambiamento deve arrivare dal basso io spero che si riesca a creare in qualche anno una cultura che arrivi dal basso di settore giovanile importante io io ci continuo a crederci magari sarò un po' Don Quixote però va bene così non saremo qui Filippo altrimenti se non ci chiediamo tutti quanti io direi dopo questa fantastica chiacchierata di chiudere con una una bella riflessione che ci suggerisce Francesco fedele in una quindi io mi permetto Franci di rubare qualche parola dalla tua domanda per chiudere questo fantastico discorso di stasera noi abbiamo parlato del momento che affronta il nostro movimento calcistico e lui chiude con una domanda che ci chiede ma in che tempi si affronta questa resistenza al cambiamento nel senso noi abbiamo veramente una scadenza come movimento per poter poi fare il salto di qualità che ci avvicini alla comprensione reale del gioco no scadenze in me non c'è nessuno io credo che ognuno di noi debba abbia la responsabilità o debba assumersi la responsabilità per quello che può di portare anche una goccia al mare come si vuol dire no però credo che questo debba essere la cosa debba essere la cosa più più importante i tempi che ci diamo ecco tu hai parlato di resistenza al cambiamento poi dobbiamo essere bravi chi porta idee nuove formative di un certo tipo deve essere consapevole che troverà resistenza e deve essere consapevole che la resistenza non va combattuta ma va accompagnata queste sono le frasi di Edgardo Zanoli che è stato con me negli ultimi anni al settore giovanino metodologo persona straordinaria ecco va accompagnato perché poi il muro contro muro bisogna parlare alle persone bisogna convincerle con la forza delle idee del pensiero dei fatti eccetera sarò un romantico dice qualcuno allora ragazzi io vabbè Filippo io ti ringrazio ma penso un po' a nome di tutti sei stato disponibilissimo ed è stato un onore e un piacere ascoltarti piacere mio questi momenti rendano bene l'idea per gli addetti lavori di che cosa significhi il confronto cioè che cosa significhi ascoltare e migliorarsi dalle parole di un altro che poi in questo caso abbiamo avuto l'onore e il piacere di sentire te che hai un mondo da raccontare però deve aprirci la mente e cercare veramente di farci capire come diceva lui anche da romantici ma non solo cercare di capire che dobbiamo aprirci sì sì esatto se non ci apriamo e ci chiudiamo restiamo ingabbiati nel pensiero cavolo ma allora sono il solo ad avere certi tipi di pensieri io sono contento se soltanto una cosa che ho detto possa aver incuriosito qualcuno ma non lo dico per frase fatta perché davvero credo noi abbiamo fatto anni di formazione in cui questo mi spiace stasera non poter dare non poter esserci il confronto vero no cioè domanda risposta contro contro domanda eccetera contro deduzione e via perché poi è lì che si fa la vera formazione però ecco innanzitutto ti ringrazio e come sempre avete dimostrato di essere un gruppo di lavoro di qualità quindi complimenti a te complimenti a tutti coloro che sono intervenuti e ripeto io ho cercato di portare con con forza con con delicatezza anche se vogliamo forse a volte non ci sono riuscito il mio pensiero che non è la verità però è una cosa cosa in cui credo molto Filippo hai riassunto quello quello che la nascita di questo movimento con l'ultima frase cerchiamo di portare anche solo una goccia al mare se ci siamo riusciti allora abbiamo fatto un passettino avanti grazie mille ti ringrazio ciao a lei abbraccio ciao 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 ciao